Ciao, benvenuti in questo video! Questa che stai vedendo è la scritta luminosa con telecomando Agnello con i due loghi, il cuore che fugge con incisa la lettera della persona che è cara e dall'altra parte il gatto come porta fortuna. Le scritte luminose con telecomando By Trek Point si distinguono da questo telecomandino che ti dà la possibilità di selezionare le colorazioni, l'intensità e i giochi a tuo piacimento ma voglio fartela vedere insieme. Puoi passare dal rosso al verde al blu al bianco o selezionare i vari tipi di tonalità come in questo momento tramite questi tastini e anche la possibilità tramite questi quattro tastini di selezionare il gioco a piacimento e tramite questi due tastini bianchi di velocizzarlo o rallentarlo. Le scritte luminose con telecomando By Trek Point possono essere realizzate a 12 o a 24 volte, compresa accendissimi. Se ti stai chiedendo ma come posso realizzarla, quanto tempo ci vuole, quanto costa e altre informazioni, beh non esitare. Chiama ora i numeri qua in sovrimpressione allo 0375 98340 o sul numero di cellulare il 335 446 595 che è anche il numero di Whatsapp. Sarà un piacere rispondere alle tue domande e poter trovare insieme la miglior soluzione per realizzare la tua scritta luminosa. Da Umberto di Trek Point ci vediamo al prossimo video!